Salve, buonasera, bentornati nel vlog di Sorgente. Questa sera torno a parlarvi di Covid-19 perché il sito CellTrials ha finalmente pubblicato i paesi che stanno in questo momento svolgendo maggiori studi clinici con l'uso della terapia cellulare per Covid-19 e Uditudi dell'Italia è tra i primi. In realtà è tra i primi, considerando che partecipano a questa pole position negli Stati Uniti, la Francia e la Spagna e anche l'Iran in realtà. Questo in realtà ci rende estremamente contenti di essere per la prima volta all'apice di una ricerca che riguarda la terapia cellulare. Però è notizia di ieri in realtà che un gruppo di Siena, il gruppo di Rino Rappoli, ha anche messo a punto tre anticorpi molto aggressivi contro Covid-19 che basterebbe inoculare anche a casa, quindi in ambito familiare, per dare una protezione immunitaria di sei mesi al soggetto che li riceve. Quindi questi anticorpi sono stati selezionati tra un numero molto importante di anticorpi, più di 5.000, che sono stati analizzati a seguito appunto di infezioni da Covid-19 e questi tre sembrano essere particolarmente potenti per combattere l'infezione. Quindi l'Italia ce la sta mettendo tutta per continuare a fare ricerca contro questo virus che speriamo non si ripresenti a novembre. Arrivederci, vi prego di condividere questo video anche con i vostri amici. A presto!